Spaghettino ai pomodoro. Salve a tutti, oggi sono qui per farvi vedere come si fa a fare, diciamo, lo spaghettino sui pomodoro. Ricetta semplice, adatta sia per gli adulti e per i bambini, ma andiamo a vedere con il procedimento. Ricetta spaghettino sui pomodoro toscano. Prendiamo il nostro burro della betone, mucca allevata alla betone, la senape, il parmigiano tagliana, mi raccomando, e l'ova di pianina. Gli hanno superiori a quelle, diciamo, di gallina. La pianina io la preferisco. Il prezzemolo, della sua morte, e si va a vedere il procedimento. Io, ragazzi, d'uovo a scelimento sempre perché ne ci stanno. Dai, mi retta, e tu, un po' tu vedrai se questa cosa... E ragazzi, mi sono ceppato. Allora, voglio dire una cosa. E mi rimanimento. Vedete questo burro come è giallo e questa pomodoro, diciamo, di ketchup, della sua morte. Si va a mescolare in questo tregamino. Io, per gli spaghetti, uso la solita tecnica di cottura per i cinghiali. Gli fa bollic 4 ore, anche 6, perché diventano più morbidi. Diventa morbidi, capito? E si va a rimestagnare con queste bacchettine classiche, tipiche, toscane. Ma adesso andiamo a aggiungere un tocco di classe. L'arbume di pianina. Vedete che spettacolo, ragazzi. Gli ha anche uno spaghetto nutriente. Andiamo a risartagnare la senape, mi raccomando, un po' tante, perché gli va a dare il controgusto, quella nota sbarazzina. Con queste bacchette si va a raschiare bene bene la vernice, in modo che gli dia anche più il tossico o buono. E andiamo a condire con sale e pepe il nostro spaghettino mondiale. Mondiale! Una bella sparmigianà. Una bella sparmigianà. Gli ha la sua morte. Gli ha la sua morte. E l'olio. Questo è l'olio della Puglia. Io lo piglio in Puglia. Vedi, perché è giallo. Si fa soffriggere del datro. Vedete? Si fa bruciare. Va portato oltre la cottura. E si mette un altro ovo. Vedete come bolle? L'ovo in camicciola. Questo è il famoso ovo in camicciola. Che gli va a dare il tocco di classe. Andiamo a proporre l'ovo sul nostro spaghettino. Vediamo se ci sta. Vediamo come casca. Gli è il suo. Gli è il suo. Questo è un grande gesto da chef. Dell'altro parmigiano. Accaduta. E il prezzemolino, ragazzi. Che gli dai il colorito. Ambrao. Speziao. Ecco, questa è la mia cacata di piatto. Io d'altronde in Giappone sono pagato benissimo. Sono un miliardario perché pensano che io faccia cucina tipica italiana. E li hanno convinti loro, convinti tutti. Buona Ugo Cisi.